A scuola con le dosi di marijuana Pronte allo spaccio, denunciato un alunno del Polo 3 Covid, sono 115 nuovi casi nelle Marche 50 a Dancone e 2 a Pesaro Urbino Oltre 2.000 gli studenti in quarantena Provoca un incidente sulla Flaminia e scappa E' stato rintracciato l'uomo che viaggiava a bordo di un'auto rubata All'azienda Beltrani Dovranno arrestarmi per far chiudere i locali Basta lockdown, la rabbia e lo sfogo di un ristoratore che attacca il governo Caro premier, semi ospite anche tu Ristori Italia invece lancia un appello al presidente Acquaroli Chiudi i confini della regione e sospendiamo le attività per 15 giorni Meglio adesso che a Natale Matrimoni rinviati e settori in crisi fatturati in calo fino al 70% Io 30, il cinema 100 Oppure a uno stadio 1000 Cioè è ridicolo Tassa sui rifiuti e la stangata arriva anche ai proprietari dei palazzi storici della città Chiesti pagamenti arretrati con sanzioni di 3.700 euro Stefano Guzzi va in regione Andrea Giuliani diventa sindaco di Coglie al Metauro Lavori pubblici e le scuole tra le priorità Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia Apriamo con la denuncia di un alunno minorenne sorpreso all'Istituto Seneca del Polo 3 di Fano Con la droga pronta allo spaccio Filippo Pucci Non è solo il Covid a mettere in pericolo la salute degli studenti Preoccupa anche lo spaccio di droga Infatti sono state messe in campo anche a Fano Le attività di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti Con il progetto Scuole Sicure Ieri gli agenti del commissariato di Fano Coordinati dal dirigente Stefano Seretti Hanno organizzato servizi mirati all'interno e all'esterno delle scuole della città Con la collaborazione della polizia locale e il supporto dei presidi Hanno svolto i controlli con i cani antidroga del distaccamento cinofili Nella Polizia di Stato di Falconara All'Istituto Seneca del Polo 3 è stato individuato un minorenne Con addosso diverse dosi di marijuana che non sono sfuggite al cane poliziotto Lo studente è stato denunciato a piede libero per detenzione della droga Che è stata sequestrata dagli agenti insieme al denaro 35 euro provente dell'attività di spaccio Determinante per l'operazione di polizia è stato il supporto e l'indirizzo della dirigenza scolastica Ma le attività proseguiranno sia con i servizi operativi antidroga Sia mediante la partecipazione degli agenti agli incontri sull'educazione alla legalità E sono 115 positivi al covid rilevati nelle ultime 24 ore nelle Marche Nel percorso nuove diagnosi con circa 1200 tamponi 50 sono i casi registrati in provincia di Ancona 28 in quella di Ascoli Piceno 17 in provincia di Macerata Altri 17 nel Fermano 2 in provincia di Pesero Urbino I ricoverati sono saliti da 70 a 83 Raddoppiati nel giro di una settimana Invece i pazienti in terapia intensiva sono 10 1 in più rispetto a ieri 4 di questi sono ad Ancona 3 a Marche Nord E 3 a San Benedetto del Tronto Il Ministero dell'Istruzione oggi ha diffuso il report nazionale dei contagi Nelle Marche risultano 25 docenti positivi al coronavirus E 10 casi relativi al personale non docente 167 invece sono gli studenti contagiati Lo 0,083% Poco più di 300 insegnanti sono in quarantena Così come oltre 2000 studenti Per quest'ultimo dato le Marche si posizionano al sesto posto Dopo Lazio, Umbria, Viguria, Toscana e Campania Invece l'attività didattica è stata sospesa per 154 classi Mentre per 3.372 alunni è stata sospesa la didattica in presenza E continua a far discutere e a preoccupare La chiusura anticipata dei locali prevista dal nuovo DPCM Oggi Angelica Panzieri ha raccolto lo sfogo di un ristoratore Che critica le scelte del governo E annuncia Terrò aperti i miei ristoranti anche in caso di lockdown Cresce la tensione nel mondo della ristorazione locale Rispetto alle chiusure serali anticipate inserite nel nuovo DPCM La probabilità palesata di un nuovo lockdown Scatena reazioni a catena nel mondo del lavoro Tra queste c'è anche quella dell'imprenditore pesarese Umberto Carriera Proprietario di 5 locali che ha affidato il suo pensiero anche ai social Raccogliendo migliaia di like e condivisioni che stanno già facendo il giro del web Ci stanno trattando come degli animali razionali posso dire Sembriamo delle persone stupide Mi sembra tanto una sorta di dittatura Magari democratica ma comunque una dittatura Io non entrerò mai in merito come non sono entrato in merito Nello sfogo insomma sui miei profili social Per quanto concerne insomma la questione medico e sanitaria assolutamente no Punto il dito ecco senza nasconderlo Sicuramente contro le scelte del governo C'è sicuramente dietro degli interessi politico ed economici Questo è assolutamente in dubbio Quello che ho scritto è che non chiuderò i miei ristoranti Qualora ci fosse un nuovo lockdown E i tanti messaggi ricevuti mi confermano che è un'idea Un pensiero che molti imprenditori hanno Quindi continuerà a far lavorare i suoi dipendenti? Continuerò a farli lavorare assolutamente sì Perché il lockdown deve essere assolutamente escluso Le scelte economiche del governo sono disastrose Ripeto oggi ci bombardano del numero dei contagiati Anche se in relazione ai tamponi che ci sono stati rispetto alla scorsa primavera Parliamo di una percentuale molto bassa Ma non dobbiamo dimenticare che a dicembre ad esempio termine il blocco dei licenziamenti Quindi secondo me nella prossima primavera andremo a contare Le migliaia di famiglie che moriranno ma di fame Le tante imprese che non riusciranno più a ripartire Perché l'estate sicuramente ha dato una mano al monto imprenditoriale E locali come me locali al mare, in centro storico piuttosto che in collina Ma tra qualche mese, ripeto, finirà la cassa integrazione a novembre Cassa integrazione che mi pare mezzo milione di persone hanno ancora ricevuto Ci sarà il termine del blocco dei licenziamenti Anche facendo una passeggiata qui in centro storico Notiamo che il negozio sfitto e un aperto Uno sfitto e un aperto con una percentuale mi pare del 50% Che è una cosa assurda che ci porta credo al secondo dopoguerra Secondo me è un'assurdità normativa Che ritroveremo tra 30-40 anni I nostri figli e i nostri nipoti Secondo me leggeranno nei libri di storia del disastro che è stato fatto Il presidente di Ristori Italia lancia un appello al neo governatore della regione Francesco Acquaroli Chiudiamo i confini delle Marche, ha chiesto Giorgio Andrea Ricci E sospendiamo le nostre attività economiche per soli 15 giorni Piuttosto che chiudere Natale in condizioni peggiori Non è pensabile che un bar debba smettere di lavorare alle 21 Prosegue il presidente quando il grosso del lavoro è dopo cena I nostri locali hanno perso già il 40% del fatturato La gente frastornata dalle comunicazioni confuse torna ad avere paura di uscire Bisogna fare maggiore chiarezza sui numeri dei malattiveri Ricci preferisce poi andare controcorrente Dato che con le misure restrittive già a marzo non si è state in grado di frenare la curva dei contagi Che ora sta tornando a crescere come allora Facciamolo subito Lockdown per la nostra categoria Concluso sicuramente meglio adesso che a Natale L'unico mese invernale in cui si lavora di più Il covid però non ha colpito soltanto il mondo della ristorazione ma anche l'industria dei matrimoni Molte cerimonie sono state annullate e i fatturati sono calati fino al 70% Il servizio di Letizia Marchionni Un duro colpo per chi lavora nel settore dei matrimoni Quello inferto dal nuovo DPCM del 13 ottobre Che per contenere il numero dei contagi in continuo rialzo Dieta almeno per un mese nell'ipotesi più ottimistica Le cerimonie con un numero superiore ai 30 invitati Una batosta per tutti coloro che come Sauro Rondine e la moglie Cesi de Sena Fanno parte delle oltre 50.000 imprese italiane Che sono state piegate dal lockdown prima ed ora dal decreto Stiamo ristoranti Il lavoro primario per noi è il wedding, i matrimoni detti in italiano Insomma ecco Con questa pandemia ci ha frenato moltissimo Ci ha bloccati Noi per i matrimoni siamo quest'anno a zero Due matrimoni da 20 persone ciascuno Insomma una miseria Vicino ai cento e più eventi del 2019 Insomma ecco E così siamo un po' bloccati Poi tutti gli eventi spostati o annullati Capito? Quelli annullati sono perse Quelli spostati andranno a finire al 2021 Però noi in questo periodo dobbiamo continuare a pagare l'energia Pagare il fisco, pagare quello che c'è da pagare E ci troviamo veramente in difficoltà Insomma ecco Abbiamo lasciato a casa quattro persone Proprio a casa Perché non riapriamo Quelli a chiamata Tutti quelli che girano intorno al catering Che sono quelli che fanno anche altri lavori Però il sabato e la domenica vengono da noi a fare il catering Saranno 25 persone E quelli quest'anno non hanno lavorato Avendo con noi un contratto a chiamata Se noi non lavoriamo non li chiamiamo E automaticamente loro sono a casa Insomma senza stipendi Tutti diciamo 40 persone che girano durante l'anno Intorno alla nostra attività Fra catering, fra ristoranti e quant'altro Ne hanno lavorato in 10 insomma Ma il decreto non guarda in faccia nessuno Solamente in settimana sono quattro gli eventi annullati dai clienti A causa delle restrizioni E per i due titolari Significano una ulteriore perdita di guadagni Che si vanno a sommare al 70% di fatturato Perso durante il lockdown Facendo catering e organizzazioni di eventi Si parla sempre di un numero consistente Cosa che quest'anno non abbiamo potuto fare E quindi è tutto morto Abbiamo fatto solo due matrimoni con 20 persone Ma è più la rimessa Perché noi come catering ci smuoviamo una marea di cose Quindi dobbiamo lavorare sui numeri Altrimenti non ne vale la pena Se io guardo il nuovo decreto che c'è adesso Allora a noi ci penalizza Perché non possiamo fare assolutamente eventi Né all'aperto né al chiuso E un matrimonio ripeto di 30 persone Quando poi leggo che E al cinema 100 persone ci possono andare Allora io dico Chi ha fatto queste leggi Perché non usare la testa Allora io devo fare un evento Ho un matrimonio Un'organizzazione completa Perché non mi chiedi se ho una location O un posto all'aperto Che possa tenere 400, 500, 300, 200 persone Eh no Mi penalizzi anche se ho un posto esageratamente grande No Io 30 Il cinema 100 Oppure non so A uno stadio 1000 Cioè è ridicolo Questo che è ridicolo Ed è stato rintracciato e fermato a Cartoceto Il ragazzo che ieri sera Lungo la Flaminia Cucurano di Fano Era scappato Dopo essere rimasto coinvolto In un incidente stradale Si tratta di un 33enne del posto Originario della Lettonia Nello scontro avvenuto intorno alle 19.20 Erano rimaste coinvolte due auto Una Opel Zaffira Fermo allo stop di Via Rivelli E una Fiat Panda di colore verde Condotta dal fuggitivo Che all'altezza della farmacia Aveva perso il controllo della vettura Finendo contro l'altro veicolo La Panda Dagli accertamenti dei carabinieri di Colli al Metauro E della polizia locale di Fano Intervenuti sul posto È risultata rubata a Cartoceto L'auto che poi è stata sottoposta a sequestro Appartiene al titolare della gastronomia Beltrani Ieri pomeriggio intorno alle 17.30 I dipendenti dell'azienda Avevano visto qualcuno prendere il veicolo E partire a tutta velocità Ma credevano che fosse stato proprio uno dei dipendenti Invece dopo 15 minuti Avevano realizzato quanto accaduto E sporto denuncia Il giovane individuato grazie alle immagini Registrate dalle videocamere della farmacia Ha ammesso le sue responsabilità ai militari Il 33enne con precedenti penali È stato quindi denunciato a piede libero Proteste senza fine per le bollette Sulla tassa dei rifiuti Dopo aver inviato le cartelle esattoriali All'industria fanesi Ora l'Andreani Tributi Colpisce anche i palazzi storici del centro città Se il comune è un'amministrazione che deve tener conto In primo luogo del cittadino Non può creare tutti questi disagi Monta la protesta contro il comune di Fanno E la concessionaria Andreani Tributi Che sta inviando cartelle esattoriali Non solo alle industrie della città Ma anche ai proprietari di palazzi storici Metrature cambiate Arretrati da pagare E disagi arrecati a tanti cittadini Che ora devono sborsare A sorpresa cifre esorbitanti Ce ne parla Renzo Ricci Amministratore del palazzo Saladini Ferri Di piazza Costanzi Se poi la tributaria Andreani Non si legge con l'ASET Se l'ASET non si legge con il comune Ovviamente c'è una situazione Diciamo così di incongruenza Quando uno vede la cartella E dice Tassa rifiuti tari Con contestuale Irrogazione della sanzione Cioè praticamente Tu mi metti in piedi Una litigiosità Automatica Prima chiariscila Poi metti in piedi Il discorso della sanzione Questo è il problema nostro Io come amministratore Di questo Ho altre problematiche In agricoltura Il deposito attrezzi Agricoli Viene sanzionato Come viene considerato Una cantina Come viene indicata Cioè ci sono situazioni Che sono peculiarità Che l'amministrazione Deve tener conto Per evitare La litigiosità Fra cittadini E l'amministrazione Non c'è stata Una comunicazione Dei dati Tra enti diversi Spiegaricci Perché gli accordi Presi con il comune Anni fa Erano diversi Queste cartelle Sono già arrivate Anche a tanti conoscenti Dell'avvocato Luciano Bracci Per nove anni Vicepresidente nazionale Delle dimore storiche italiane E oggi presidente onorario Della Sdemarche Per l'avvocato Anche lui proprietario Di uno di questi immobili Non è giusto Paragonare la tassa Applicata a un appartamento Di 100 metri quadri In cui vivono tre persone A quella di una dimora storica Disabitata I rifiuti che si producono Non sono certo gli stessi Siamo tenuti A tenerle in ordine La manutenzione Costa una marea di soldi Il riscaldamento Come sopra C'è stato il terremoto Noi non siamo in zona Di terremoto Io ho come danno Ho avuto Una serie di crepe Sui soffitti Se i soffitti Sono bianchi Uno Gli stucca E le ripittura Se i soffrischi Sono affrescati Diventa un inferno Perché deve venire Il restauratore Deve venire quello A cui Almeno teoricamente Saremo obbligati Questa ad esempio È una delle bollette Inviate dall'affidataria Vengono precisati Anche l'anno di riferimento Dal 2015 al 2019 L'importo Gli interessi E le sanzioni Per un totale Di oltre 3.700 euro Se pagato Entro 60 giorni L'importo Si riduce A 2.975 Ci sono comuni Fa sapere Luciano Bracci Nei quali La tassa Viene calcolata Fino a una superficie Di 300 metri quadri E non al di sopra Oltretutto Dovrebbe esserci Una riduzione Del 20% Relativa alla superficie Calpestabile E qui Pare che non venga applicata In Olanda Ad esempio Che mi sembra Una fondazione civile Fanno pagare I sacchetti Della nettezza urbana A seconda di quale sia Il tipo Di rifiuto Per cui uno paga Su quello che consuma Siamo intenzionati Ad andare a parlare Con Seri Un attimo Per vedere Se si riesce Ad ottenere Qualche cosa E poi anche Da parte Della società Che ha l'appalto Di questo Momento Di attenzione Perché loro vanno Così Come una macchina Gli passa sotto Devono incassare Giustamente Prendono l'agio Che non è neanche Basso per Fano E quindi Più tasse mettiamo Più le facciamo Credo che Un attimo di attenzione In un momento come questo In cui La gente Si trova Quasi tutti O tutti Direi In difficoltà Con la scusa Che dice Sì questa è una tassa Di dieci anni fa Ho capito Ma se me la fai pagare Adesso che io non ho i soldi Cambia poco Che sia di dieci anni fa Speriamo Di riuscire Ad ottenere qualche cosa Perché è una situazione Pesante E adesso diamo spazio Alle vostre segnalazioni Perché oggi Diversi telespettatori Reporter di strada Dopo il servizio Andato in onda Ieri sera Sulle norme anti-covid Da rispettare Nei cimiteri di Fano Ci hanno segnalato Che nel campo santo Di Rosciano Così come In quello di Ronco Sambaccio I dispenser Con i gel igienizzanti Sono tutti vuoti La nostra redazione Oggi è andata a verificare Ed in effetti Mancava il liquido Nei contenitori E dopo la nomina Ufficiale di Stefano Aguzzi Nella nuova giunta regionale Le sue funzioni Di sindaco Di Colli al Metauro Passeranno al vice Andrea Giuliani Nelle prossime settimane Si avrà l'ufficialità Intanto il vice sindaco Di Colli al Metauro Andrea Giuliani Si prepara Ad accettare Una nuova sfida Ingegnere di AZSPA A 50 anni Residente a Saltara Giuliani Ha ricoperto per tre anni Anche il ruolo Di assessore al turismo Alla cultura E all'ambiente Del comune Istituito il primo gennaio 2017 Mediante la fusione Di Monte Maggiore Al Metauro Saltara E Serungarina Ieri infatti Il sindaco Stefano Aguzzi È stato nominato Assessore regionale Con deleghe al lavoro All'urbanistica All'ambiente Difesa del suolo E della costa Ed ora Per incompatibilità Dei due ruoli Lascerà l'incarico Di primo cittadino A suo posto Subentrerà Giuliani Che fino alle prime elezioni Utili Che si terranno Con molta probabilità Nel maggio prossimo Prenderà Le redini di Aguzzi Traghettando la maggioranza Fino alla fine del mandato Anticipato In questo caso Di circa un anno Giuliani quando ha saputo Di questa possibilità Di diventare primo cittadino Ufficialmente Soltanto poche ore fa In pratica L'altra mattina Insomma Però Già qualcosa Era nell'aria Un po' ci pensavamo Tanto Stefano Lo conosciamo da tempo E quindi Sapevamo che aveva Delle ottime possibilità Le sue emozioni Le sue sensazioni Ma adesso Un po' Un mix Da una parte Di preoccupazione Ma una sana Preoccupazione D'altra parte Non stiamo parlando Di un evento drammatico Ma di un evento Positivo Per questo territorio Per Fano Che ovviamente Si ritrova Tre assessori regionali E per tutto Per tutta la provincia Di Pesaro Urbino Quindi siamo Assolutamente contenti D'altra parte Dobbiamo prendere atto Di una situazione Che non ci aspettavamo E comunque Siamo Io in primis Non sono abituato A spaventarmi Ma abituato Un po' A rimboccarmi le maniche A cercare di risolvere I problemi Come avverrà Il passaggio di consegne? Ma di preciso Adesso ancora Non lo sappiamo Non abbiamo neanche Avuto tempo Di approfondire Con il segretario Stiamo valutando E studiando bene Le carte La normativa Probabilmente Servirà Più di un consiglio comunale Ma forse potrebbe Anche volerci Uno solo Quindi adesso Stiamo un po' Ragionando E cercando di capire meglio Quali saranno Invece i primi settori O progetti Che seguirà? Ma priorità Assolutamente I lavori pubblici Alle scuole Dobbiamo riportare Assolutamente I nostri ragazzi Che sono attualmente Confinati Nella scuola Nel palazzo comunale Di via Marconi Li dobbiamo assolutamente Riportare a Saltala Nella Dezzi Che stanno Continuando i lavori Anche per progettare bene E la ristrutturazione Quella che dovrà diventare Il polo Il centro Dell'amministrazione comunale A Calcinelli Poi dopo il resto Vedremo insieme Ai miei compagni Di cammino Della giunta E del consiglio Di maggioranza Di cercare di stabilire Delle priorità Tra le tante cose Che abbiamo iniziato E che in qualche maniera Ci dobbiamo un po' Rassegnare A non vedere finite Buon lavoro Grazie mille E vi ricordo che lunedì sera Stefano Guzzi Sarà nei nostri studi Per una puntata speciale Di primo cittadino Cambiamo argomento Si chiama Donazione in Rosa Ed è l'iniziativa Di Avisfano In collaborazione Con la Lilt Che dedica I mesi di ottobre E di novembre Alla donna E alla prevenzione Del tumore al seno Ottobre e novembre Si tingono nuovamente Di Rosa Grazie all'iniziativa Portata avanti Da Avisfano Che quest'anno Estende la partecipazione Anche ad altre sei Avis Che operano Nelle zone limitrofe Si chiama Donazione in Rosa Ed è un periodo Quest'anno di due mesi Entrambi dedicati Alla prevenzione Ed alla donazione Ed interamente Rivolti al mondo femminile Al centro La donna Come generatrice E donatrice di vita Novità del 2020 E anche la realizzazione Di un webinar Per consentire Di dare Maggiori Informazioni Alle donne E' vero che Come Si è detto più volte Lo screening Del tumore al seno Parte Diciamo Con la mammografia Ai 40-50 anni Però è importante Che l'informazione Venga anche data Alle ragazze E quindi Alle ragazze Poi che Donano E comunque Chi si presta Anche a fare Le prove Di donità Per diventare Donatrice Un periodo Tutto in Rosa Che nel mese di novembre Votato alla prevenzione Continua la sua collaborazione Con la Lilt La Lega Italiana Per la lotta Contro i tumori Il cui slogan Recita Prevenire è vivere Alle donatrici Associate Avis Non solo di Fano Sarà infatti Donato a partire Dal 19 ottobre Un bonus Per una visita Senologica gratuita Che da quest'anno È possibile fare Ancafano All'ospedale Santa Croce È molto importante Che passiamo Questo messaggio Nel mese Proprio dedicato Alla prevenzione Del tumore Al seno È il tumore Più frequente Per le donne Ed è un tumore Frequente Anche nella fascia Non coperta Da screening Cioè quindi Al di sotto Dei 50 anni Quindi Alle donne Che verranno A fare una visita Senologica Gratuita Diremo Cosa fare Quindi oltre a dare Degli elementi Per poter capire Il loro rischio Oncologico E quindi Ereditarietà O familiarità Quindi diremo Anche alle donne Come fare L'autopalpazione E poi Faremo la visita Senologica Che sarebbe bene Ripetere Per tutti gli anni Una volta l'anno Prima anche Di iniziare Lo screening Il comune di Fano Tiene alla prevenzione Afferma inoltre L'assessore Alle pari opportunità Sara Cucchiarini Il tumore al seno Continua È una malattia Che si sta facendo Sempre più giovane E va combattuta Tramite visite E controlli Innanzitutto Dobbiamo ricordare A tutte le donne Che la prevenzione Salva la vita E direi Che una battaglia Che dovremmo fare In collaborazione Insomma Anche alla regione Una richiesta Che dovremmo fare Alla regione È quella Di abbassare L'età Dello screening oncologico Perché abbiamo visto Che comunque Ci sono molte donne Anche poco più Che trentenni Quarantenni Che sono colpite Da questa malattia Abbiamo innanzitutto Colorato di rosa Tre monumenti Della città L'arco d'agusto La fontana di piazza La torre civica Per ricordare Per tutto il mese Di ottobre Appunto L'importanza Della prevenzione E anche Ricordare A tutte quelle donne Che devono sottoporsi A screening Gratuito Ogni due anni Chiamate dalla regione Di farlo E il comune di Fano Come ultima iniziativa Sta ecco Strutturando Per fine mese Un appuntamento Con il dottor Magalotti Della breast unit Appunto di Fano Proprio per Andare a mettere In chiaro Quelle che sono Tutte le possibilità Che le donne hanno Di prevenzione E anche di cura E un ordigno bellico È stato rinvenuto Oggi nel cantiere Per il ponte Due Giugno A Senigaglia Si tratta Di un residuo Della seconda guerra mondiale Di circa 70 centimetri Sul posto Gli agenti Della polizia locale Del commissariato Sono in corso Logicamente Degli accertamenti Sull'ordigno Per capire Il tipo di esplosivo Contenuto Ma anche la pericolosità L'aria è stata Transennata Ma era di fatto Già interdetta Al traffico Viste appunto I lavori Al momento Non è stata evacuata Ne sono state Chiuse le attività Commerciali Quindi non sono stati Evacuati i cittadini E nelle prossime ore Insomma Cercheremo di capire Che cosa succederà Chiudiamo Il nostro telegiornale Con gli auguri A Giannino Longhini E Stella Nataloni Che oggi festeggiano Ben 65 anni Di matrimonio Auguri dalle figlie Flavia e Anna I generi Da quattro nipoti Logicamente Congratulazioni E auguri Da parte di tutto Lo staff Di Fano TV Questa era l'ultima notizia Tra poco Trasmetteremo Uno speciale Dedicato alla mostra Intitolata Da col bordo La Urbino Organizzata Da Centrale Fotografia Grazie per averci seguito Arrivederci